No vabbè ragazzi, ma che figata sono di notte queste ali, eh? E se adesso ci facciamo un bel giro... Oh mio Dio! Posso arrivare fino alla luna? Ah, mio Dio! Le litre di Minecraft sono una figata pazzesca e ci permettono di volare senza l'utilizzo della creativa. Ma se vi dicessi che esiste un modo ancora più bello e soprattutto decisamente migliore delle litre per volare e andare in giro nel vostro mondo di Minecraft... Ah, non mi credete? Quando mai vi ho mentito? Ditemi una volta in cui io vi ho mentito. Ecco, quindi continuate a guardare questo video e soprattutto lasciate tanti bei mi piace perché oggi vedremo le nuove ali di Minecraft e come craftarle, perché hanno un crafting molto particolare, molto difficile anche e dovremo andare alla ricerca di tutti quanti i materiali. Però, prima di cercare i materiali, vi faccio vedere un piccolo spoiler delle ali. Questa mod è una figata pazzesca, ragazzi. Guardate che bello. Oh mio Dio! Questi sono i materiali di cui avremo bisogno per craftarle. Quindi ci abbiamo il sangue di pipistrello. Vabbè, non so a cosa possa servire, sinceramente. Una metista, che è rara quanto un diamante. E poi abbiamo la polvere di fata. La polvere di fata si trova in miniera. Sì, non dovremmo uccidere nessuna fatina, non vi preoccupate. Tutte le fate di questo mondo sono sane e salve in nostra compagnia. Quello che dobbiamo fare, ragazzi, è andare in miniera, come vi dicevo, quindi qua giù nei meandri delle caverne piene di mostri, e cercare la polvere di fata e l'ametista. Ovviamente, ragazzi... Oh, ma ho trovato dei diamanti. Con questa facilità, ma dai! Vediamo. Sono veramente curioso di vedere se riusciamo a trovarle. Dopodiché, ovviamente, crafterò tutte quante le ali, senza ricercare tutti i materiali, perché altrimenti ci metteremmo una vita. Però voglio vedere dove si trovano, perché... Ecco la polvere di fata, ragazzi. La polvere di fata è facile da trovare quanto il ferro. Quindi, se io adesso mi dovessi prendere un piccone in ferro, presumo, sì, un piccone in ferro dovrebbe andare più che bene, e provo a scavarlo, dovrei riuscire a prendere la polvere di fata, che è un blocco orcobaleno. Oh, ecco, l'abbiamo ottenuto. Fantastico, che figata. Adesso, ovviamente, dobbiamo cercare... Ah, l'accendere dell'altro. Ecco, come vedete, la polvere di fata si trova facilmente. Ma l'ametista, invece... Altra polvere di fata... L'ametista, invece, ho proprio l'impressione che sarà decisamente più difficile da trovare, in quanto c'era scritto che è più o meno rara quanto i diamanti. Ora, io e i diamanti sono un esperto a trovarli, quindi sicuramente non avrò dei problemi. Li ho già trovati, in realtà. Però l'ametista non la vedo da nessuna parte. Dove si trova? Ametista? Ah, ametista. Perché c'è un fiorellino qua sotto? Non lo so. Diamanti ne stiamo trovando, ragazzi, a profusione. Però, dove è l'ametista? Non ne ho la minima idea. Non l'ho vista ancora. Poi magari sono cieco e tutti quanti nei commenti mi state dicendo ma Kendall era lì. Eccola! L'abbiamo trovata! Fantastico! Ok, prendiamola, perché sono veramente curioso. Quindi mettiamo questi blocchi qua per non farla bruciare. Prendiamo l'ametista. Si può prendere col piccone in ferro? Sì, si può prendere. E abbiamo trovato l'ametista. Adesso vi faccio vedere il crafting delle nuove ali di Minecraft. Quindi buttiamo via queste litra, buttiamo via i razzetti, non ci servono a niente. Quello di cui avremo bisogno adesso è il sangue di pipistrello. Quindi spawniamo un bel po' di pipistrelli. Vi faccio vedere come ottenerlo. Molto semplice, con delle bottigliette d'acqua vuote. Fate così. Ci cliccate sopra e vi prendete tutto il loro sangue. Sì! Prelievo del sangue senza siringa. Quindi almeno non gli facciamo neanche del male. Bene! Adesso che abbiamo tutti quanti i materiali, craftiamo il primo paio d'ali. Le ali angeliche. Per prendere le ali angeliche abbiamo bisogno delle piume, ovviamente. E anche di un diamante. Dopodiché... Ah, è anche l'oro. Mi stavo dimenticando. Serve l'oro. Serve oro a quantità industriale. Quindi piazziamo quattro di oro in questo modo. Un diamante qua al centro. Dopodiché due piume qua. E non funziona! Sapete perché non funziona? Perché serve la polvere magica. Dobbiamo mettere ovviamente la polvere di fata. Ed ecco qua le ali angeliche. Andiamole a provare immediatamente. Vi do il permesso di lasciare non mi piace a questo video se queste ali non dovessero essere una figata pazzesca. Ve lo dico, eh. Potete anche lasciare non mi piace. Però, se sono una figata pazzesca e vi stupiscono, lasciate mi piace adesso. 3, 2, 1. Indossiamole. Guardate quanto sono belle. E adesso... Si vola! Oh mio... Attio, che figata! L'animazione è fluidissima. E soprattutto, finalmente, abbiamo un'animazione con le ali. Le litre sono fisse, sono immobili. Invece queste qua, wow! E posso andare anche sotto, 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 sotto piano, senza schiantarci. E poi risalire. E ovviamente, ragazzi, se dovessi cadere dall'alto, dal cielo, con queste ali, visto che al momento sono un angelo, non prendo alcun danno da caduta. Poi sono super veloci, guardate. Ho già superato le nuvole. Ok, ora proviamo a cadere. Che tra l'altro stiamo planando. Perché le ali continuano a sbattere, ovviamente. E ora, guardate. Sono morto. Ecco, perché sono morto? Non lo so neanche io. In realtà non dovevo morire. Non so cosa sia successo. Ok, piccolo fail. Però resta il fatto che le ali sono una figata pazzesca, giusto? E ora vi faccio vedere anche le altre. Perché abbiamo le ali dello slime. Le ali della farfalla blu. Poi abbiamo le ali della farfalla monarca. Abbiamo le ali del fuoco. Le ali del pipistrello. Le ali della fatina. Le ali cattive. E soprattutto le ali di drago. Mamma mia che figata. Questa mod è veramente bellissima. Quindi, ali dello slime. E non sono proprio bellissime da vedere, sinceramente. Però, guardate. Sembra che io sia diventato tipo una libellula. E soprattutto sono molto, molto veloci. Ma le ali migliori di tutti, come probabilmente avrete già capito, sono le ali del drago. Quelle sono le più belle. Sono le migliori in assoluto. E guardate che figata. E quanto in alto riescono ad andare. Ok, troppo in alto. Troppo in alto. Scendi giù, scendi giù, scendi giù. Cambiamoci le ali mentre siamo in volo. E mettiamo le ali della farfalla. Ok, così almeno possiamo planare. Visto? Ora sono proprio una farfalla. E ovviamente possiamo anche usarle per volare. Sono molto carine, devo dire. Molto belle. Però, siccome io ho già la skin blu, non mi va di avere delle ali blu. Mettiamo allora delle ali. Le ali del monarca. La farfalla monarca. Guardate che belle. Eh? Eh o no? Eh? O no? Eh? O no? Ok, perfetto. Quindi anche queste qua, ragazzi, sono delle ali fantastiche. Se mi tolgo dalla creativa, tra l'altro, e conviene togliersi, posso andare a destra, a sinistra, in basso, in alto, in giù, in su. E tra l'altro anche la videocamera, come vedete, si muove un pochettino ed è veramente bellissimo. Secondo me l'animazione di questa mod è praticamente perfetta. E vorrei tanto che venissero aggiunte su Minecraft, sul vero Minecraft, senza l'utilizzo di mod. Sarebbe una figata pazzesca. Quindi via adesso le ali del monarca! Oh! E utilizziamo le ali del fuoco. Queste, secondo me, sono le più belle in assoluto come estetica. Cioè, guardate qua. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Stiamo scherziamo! Sono veramente, veramente bellissime. E funzionano alla perfezione. Sono molto, molto veloci. E purtroppo, però, queste... Oh, no, 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 vai su, vai su. Ehi, ehi, dove vai? Ehi, ehi, ti sei stancato. Ah, mi sono stancato perché non ho più cibo. Cavolo! Ok, prendiamo del cibo. Non lo sapevo questo, vi devo dire la verità. Non avevo la minima idea. Prendiamo delle mele d'oro. Ok, e ora si pappa. E tra non molto, possiamo ridecollare. No, vabbè, ragazzi, ma che figata sono di notte queste ali, eh? E se adesso ci facciamo un bel giro... Oh, mio Dio! Posso arrivare fino alla luna? Secondo me posso arrivare fino alla luna. Che figata! Verso l'infinito! E oltre! E adesso proviamo anche le ali del pipistrello, ovviamente. Quindi mettiamoci le ali del pipistrello e si vola! Come vedete, ragazzi, l'animazione è molto simile per tutte quante. Cambiano soltanto quelle tra ali normali e ali di farfalla. Quelle delle farfalle e delle libellule sono un pochettino diverse. Purtroppo, però, non aggiungono nulla di nuovo. Cioè, quindi queste ali sono soltanto per estetica. Voglio dire, tra un'ala e l'altra... Tra una delle... Eh, tra un paio d'ali e l'altro non cambia assolutamente nulla. Purtroppo non hanno messo tipo, non lo so, dei poteri strani. Sarebbe una figata pazzesca, secondo me. Però non l'hanno fatto. L'unica differenza è che alcune ali durano di più delle altre. Eh, vabbè, pazienza. Resta il fatto che sono una figata pazzesca. Sono anche abbastanza semplici da craftare. Se volete vi lascio qua sotto il link così le potete... Potete giocarci anche... E le potete utilizzare nel vostro mondo. E ci sono anche i crafting nel... Nel sito. Quindi le potete utilizzare tutti quanti. Ok, queste sono le ultime ali da libellula per volare. E adesso vi faccio finalmente vedere le ali del drago. Le più belle in assoluto. Via, buttiamo queste qua. E adesso via! Oh mio Dio! Dai, sono bellissime. Dite la verità, ragazzi. Sono bellissime. Sono super eleganti. Sono super versatili. E soprattutto super veloci. Io credo proprio di riuscire ad arrivare sulla luna. No, sto scherzando, ragazzi. Adesso riatterriamo giù e facciamo l'outro di questo video perché siamo giunti alla fine. Voi avete lasciato un mi piace. O almeno me lo auguro. E soprattutto vi sarete già iscritti al mio canale. Giusto? Guarda che io poi vi posso controllare. Io vedo chi non si iscrive. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. E adesso facciamo un atterraggio perfetto sul deserto. Planiamo piano, 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 piano. Piano, aia. Ecco, non proprio perfetto, però ce l'abbiamo quasi fatta. Mi raccomando, ragazzi. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video delle mod. Fatemi sapere se ne vorreste vedere delle altre. E soprattutto se vorreste vedere un altro video sulle ali di Minecraft. Magari creare un nuovo mondo con tantissime mod e aggiungere anche queste. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Ciao!